eccomi ragazze allora in un altro nuovo video che spero di fare a tempo a registrare dove vi racconto un po le mie passioni allora queste mie passioni sono il canto che mi piace molto cantare ma non canto nulla perché evito allora tanto allora intanto minetta cantare max spezzali laura pausini tante altre canzoni mentre per tutta la musica che ascolto ascolto sia il sonora che valido escano e altre canzoni come shakira tutti cantanti lì san giovanni farfalle dorichezzi come casa ciò e tante altre canzoni sempre di degli anni passati ma anche non solo degli anni a oggi a partire da edoardo vianello albano carrisi romina e tutti quegli altri cantanti adriano cerentano tipo che ne so il ragazzo della piac look mina cerentano tipo acqua e sale e tanti altri mentre anche eric iglesias di vamos a bailar ai bailar quelle canzoni la e tutti gli altri mentre più quanto riguarda il programmi della rai mi ascolto la rai media settore vuol dire tempesta d'amore aveva parte tempesta d'amore terra amara ma non sempre me la guardo che su canale 5 oppure mi guardo si lo a me tutto guarda anche uomini e donne non ci vedono nulla di male oppure vabbè grande fratello non lo guardo per niente ma anche mi guardo un posto al sole mi guardo pure un posto al sole e mi guardo di tutto e di più insomma tranne che mi scarto grande fratello perché non mi fa impazzire non piace proprio per niente poi cos'altro mi guardo aveva tanti altri programmi tipo stasera italia i talk show i talk show mi riguardo sempre però poi quando sono stanca la sera che crollo non ce la faccio proprio e non mi non guardo sempre i talk show poi guardo cosa c'era stasera italia poi non mi ricordo a me non importa e niente quindi non mi vedete ancora qua perché ancora non è venuta una ma quando viene devo spegnere tutto perché devo andare a dirizzarmi ve l'ho detto anche nell'altro video questo che ho registrato qui da questa parte vedete c'è la mia fotocamerina che ho ripreso tutto spettate ragazze ha squillato il telefono allora ecco mia ragazze quindi stavo cercando di registrare il video delle mie passioni ma vabbè e niente quindi alla fine cosa voglio dirvi che ho ho tutte queste passioni sul canto ma anche sul disegno mi piace molto disegnare e mi piace anche tanto ballare solo che ballare non ballo più perché si potrebbe andare ma devo mettere un tutt'ora perché ho una malformazione tutte e due le ginocchia quindi devo stare attenta come muovo le ginocchia perché da un momento all'altro potrebbero non potrebbero di nuovo far cadere data che sono stata operata al ginocchio sinistro sudate quindi niente devo stare attenta come muovo tutto lì semplice da capire quindi niente devo cercare di stare attenta appunto disegno a volte disegno visi di persone oppure disegno a case dipende mi faccio prendere a volte dalle ispirazioni di come voglio disegnare e niente il programmi della rally guardo quasi tutti un posto al sole di tutto guardo ragazza ok se questo video vi è piaciuto mettete un like perché era piccolo ma va per dettagli e noi ci si vede un prossimo video ciao buona vita a tutte ciao